Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento e con l'informazione Rassegna Stampa di questo venerdì 25 maggio 2018, che come sempre apriamo leggendo i quotidiani di Bologna, le prime pagine dei quotidiani di Bologna. Partiamo dal resto del Carlino, la fotonotizia di prima pagina dedicata al Bologna, oggi ci sarà una conferenza stampa congiunta di Gioi Saputo e dell'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, però la fotonotizia di prima pagina è dedicata appunto a Gioi Saputo e allo stadio Dall'Ara, il titolo è Nuovo Dall'Ara, si parte, saputo dall'ok al restyling, Prati di Caprara accordo con ECE per la cittadella della moda. E poi nel taglio laterale, frutta e verdura, marce ai bambini, controlli del nastro ai banchi, nuovo caso in Bologna. E poi la cronaca, dal tedo rapina da film in banca, i ladri armati si calano dal tetto e rubano 2500 euro. Nel taglio inferiore invece, maggiore, guardi nel parcheggio contro gli abusivi, via al presidio davanti all'ospedale, al via appunto il primo giugno e arrivano le sbarre al posteggio. E poi ancora festa il 6 di giugno, la notte blu celebra l'acqua e illumina il canale di via Piella. Questa è la prima pagina del resto del Carlino di Bologna. Prima pagina del Corriere di Bologna dedicata alla polemica legata agli eventi dell'estate, i quali che erano stati bloccati nei giorni scorsi. Il Corriere di Bologna titola il Ministero, sblocca l'estate. Il Mibact pressa per l'ok su container e parco dello Stato Sociale. Oggi il vertice decisivo. Contatti decisivi tra il Comune e uffici romani dopo i paletti della soprintendenza. C'è da sciogliere il nodo legato alla sicurezza. Foto notizia di prima pagina del Corriere di Bologna dedicata alle scuole Carracci. Pronte alla demolizione, a Palazzo da Cursi le operazioni verranno fatte in agosto e poi ancora scuola. Mancano i contributi volontari, i progetti dunque sono fermi. L'Istituto Comprensivo 18, appunto il virgolettato riportato dal Corriere di Bologna, dice Cari genitori, in pochi avete versato il contributo volontario. Sono a rischio i progetti della scuola. L'Istituto Comprensivo 18 striglia le famiglie. Nel taglio superiore, fuori dalla mappa del potere, l'isolamento della Bologna. Pd, politica, resta Bonaccini che guida la conferenza Stato-Regioni. Per il resto, invece, il nuovo governo non avrà volti legati alla nostra città e alla nostra regione. Poi nel taglio superiore, dall'Ara, sì di saputo, il restyling è più vicino. Per quanto riguarda Roberto Donadoni, invece, gli è arrivato l'addio ufficiale del suo esonero e appunto del rapporto interrotto tra il Bologna e Roberto Donadoni. E poi ancora sulla prima pagina del Corriere di Bologna, taglio laterale, braccio di ferro, i taxi bocciano, l'autority, le licenze bastano così. Questa è la prima pagina del Corriere di Bologna. Andiamo all'interno del resto del Carlino di Bologna, poi vedremo ovviamente anche tutte le pagine nazionali. Pagina 2, Bologna in primo piano, stadio si parte, riprende la fotonotizia di prima pagina. Prati di Caprara, scontro sui lavori, bufera su una lettera di Merola distribuita in classe. Lunedì ci sarà la protesta. Le due fazioni intervistate del perché sì e del perché no, riportate dal resto del Carlino, perché sì, gli alberi abbattuti servono per costruire una scuola, perché no, il cantiere sarà una prepista. La grande speculazione a parlare sono rispettivamente Lorenzo Cipriani, il presidente del quartiere Porto Saragozza, e Danilo Gruppi, che è l'ex segretario della CGL Bologna, dopo un periodo di pausa è tornato a guidare infatti il comitato legato alla difesa dei prati di Caprara. Si rimane su questo argomento anche a pagina 3, perché è saputo, mette la firma sulla città della moda, è il titolo di pagina 3, siglato il protocollo con i tedeschi di ECE, è il primo passo per il restyling del Dallara. Il progetto sorgerà nell'ex zona militare, prevista come compensazione. La lettera di intenti al comune potrebbe partire già a metà giugno. I partner dell'operazione, nelle brevi del resto del Carlino, coinvolto anche il gruppo Maccaferri, interessato a un supermarket in zona CRB. Gli investitori saranno pronti a coprire 170 milioni dei 220 milioni di euro complessivi. La parte restante sarà coperta dal Bologna Football Club anche attraverso un mutuo. E poi le possibili alternative, lavorando a Stralci, il Bologna può restare al suo posto, altrimenti dovrà traslocare a Modena o a Ferrara per quello che riguarda le gare di campionato. SOS Sicurezza, pagina 4, il blitz delle pattuglie in Borghese, largoni i grisoli anche ieri, controlli della Municipale sui posteggiatori. Durante la giornata, più turni di vigilanza per tre agenti alla volta. Dall'inizio dell'anno, i vigili hanno compiuto 162 interventi. A proposito di questo, i vigilantes contro gli abusivi saranno presenti nel parcheggio a parlare e a dirlo. E' appunto l'assessore Itini che dice dal primo giugno un presidio di guardie giurate sarà presente davanti al Maggiore. E poi a settembre saranno presenti poi le sbarre, come riporta ancora il resto del Carlino. Dopo l'estate tutta l'area di sosta sarà automatizzata, il ticket si pagherà alle casse all'interno dell'ospedale. Al problema hanno lavorato gli assessori alla sicurezza e alla mobilità insieme a Tiper e questo è un po' il quadro legato alla zona dell'ospedale maggiore. Pagina 6, le spine della scuola, carote marce, spunto un altro caso, rancide quasi tutte le buste. Lo stesso copione anche alle figlie di Maria Ausiliatrice e la suora, la suora Giselda, dice ad accorgersene sono state le insegnanti, ma non è la prima volta che ci capita. E poi ancora per quello che riguarda la scuola, nuove Carraci, il cantiere, senza una data. Merenda variata, arrivano in asse, ancora si parla di questo a pagina 7, visitati gli istituti coinvolti, aperto un dossier anche all'Asle e in procura un esposto di Forza Italia che dice è doveroso indagare quando si tratta di soldi pubblici. Pagina 9, i cittadini sono protagonisti e cronisti sul resto del Carlino, le fotografie e le zone critiche di Bologna inviate alla redazione del resto del Carlino. Si parte in questa foto da Piazza 8 Agosto l'orologio in Franto e poi in Via di Casaglia gli steli d'erba al cemento armato e poi in Via Cesare Battisti ancora i calcinacci e i cornicioni pericolanti. Pagina 11, festa al Nautilus, l'Ateneo deve intervenire, i residenti dicono stop al caos oppure si diano ai gruppi studenteschi sedi in zone isolate. Ciavatti dice non ne possiamo più, questi ragazzi sanno solo fare rumore fino a tarda notte e poi si parla della promessa mancata. Gli assegnatiari tempo fa avevano garantito di finire le serate entro mezzanotte cosa che non è stata rispettata. Continuiamo a sfogliare il resto del Carlino di Bologna, pagina 12 e pagina 13 si parla di salute, la risonanza del futuro, innovazione tecnologica, esami su un lettino mobile, il centro DLAVMED collabora con un colosso dell'imaging nella fotografia tra i dottori Vittoria Lauro, Giulia Boccanera e Michele De Vito Piscitelli e appunto questa è la fotografia riportata sul resto del Carlino e a pagina 13 come detto si parla ancora di sanità in casa al mare in viaggio ecco i consigli del pediatra il professor Lanari del Sant'Orsola ieri nella redazione del resto del Carlino risponde ad otto domande che sono riportate tra pagina 12 e pagina 13 pagina 15 notte blu per illuminare il canale il 6 giugno torna l'evento dedicato alle vie d'acqua della città il ricavato finanzierà l'impianto per valorizzare anche di notte la celebre finestra di via Piella e poi le brevi nel taglio laterale di pagina 15 l'eredità di Franco Piro nella cultura della disabilità e poi il Manfredi Tanari a Locri scuola contro la Ndrangheta e il cibo di strada corticella cucina a spasso nel parco il Food Truck Festival torna a corticella da oggi fino a domenica ancora la cronaca pagina 17 Maxi sequestra l'uomo dei boss nuovi guai per Giovanni Costa il riciclatore della mafia sigili della finanza a conti e immobili per quasi 400 mila euro e poi la cronaca ancora in breve chiesti soldi ad uno studente per restituirgli il cellulare sono stati arrestati sono stati arrestati due persone due tunisini di 29 e di 24 anni avevano rubato il cellulare a un ragazzo uno studente austriaco invece di 27 anni andiamo in provincia torniamo sulla cronaca ad Altedo perché questa notizia è quasi da film si calano dal tetto e rapinano la banca due impiegate minacciate con la pistola i banditi sono fuggiti con 2500 euro entrati intorno al 5 della mattina hanno atteso l'apertura della filiale e il sistema di sicurezza sbloccato l'agguato dunque è riuscito pagina 20 Casalecchio e Valsamoggia discarica cielo aperto lungo i sentieri il consigliere della lega moratori dice cumuli di rifiuti sono ovunque e questo dunque parte la lotta legata a pulire appunto le zone di Casalecchio e Valsamoggia ancora Casalecchio pagina 21 Polisportiva Masi uno spettacolo per 500 atleti all'Unipol Arena i saggi di fine anno della ginnastica artistica e poi sempre a Casalecchio economia dei quartieri commercio l'assessore Paolo Nanni incontra i negozianti pagina 22 ancora la cronaca Castel San Pietro perché muore travolto da un treno in via Corlo la vittima è un 50enne che nei pressi aveva abbandonato la sua bicicletta investito nel pomeriggio all'altezza del sovrappasso sui binari la segnalazione è stato il conduttore di un regionale ad avvertire alle 17 la polizia ferroviaria del compartimento di Bologna tutto fa presagire ad un gesto volontario perché l'uomo pare si sia tolto la vita forse per problemi economici ma sono in corso in questo momento gli accertamenti a pagina 23 siamo ancora in provincia a San Lazzaro e Valle del Libice danni per le frane via ai lavori interventi in due aree l'attesa per lo stato di emergenza ancora fuori di casa parlare appunto è un residente Massimo Accorsi riportato anche nella fotografia è un periodo davvero duro il rimborso per le spese di affitto arriverà soltanto tra sei mesi Pagina 24 a Pieve tre giorni per convincere i bambini a leggere il festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza che comincia appunto si chiama uscire dal guscio a parlare Elisabetta Scalambra che dice la vera forza del progetto sta nell'impegno quotidiano nel diffondere queste idee e poi ancora la cronaca in provincia Granamica multata dal fisco a parlare il presidente Marconi in merito appunto alla multa della squadra di Minervio di Granarola di Minervio piccoli errori abbiamo già pagato 10.000 euro l'agenzia delle entrate ha esaminato i conti dell'ultimo triennio della società sportiva e ha riscontrato alcune irregolarità elevando appunto una sanzione il presidente dice voglio essere assolutamente chiaro Granamica non ha nessun problema di questo tipo l'attività infatti verrà gestita come di consueto con serenità e correttezza Pagina 26 ancora la provincia la fusione serve per crescere l'incontro dei vertici BCC al Torreno con i sindaci questo è quanto riportato la fotografia ritrae Bruno Bartolomei il presidente di BCC al Torreno Roberto Margelli il direttore di BCC poi Valentino Cattani il direttore di Fedemiglia e Andrea Alpi direttore di BBC Felsina nella fotografia appunto insieme anche a Paolo Angiolini il presidente di BCC Felsina questo è l'interno del resto del Carlino torniamo al lavoro redazionale di ieri di Nettuno TV perché è stato presentato il progetto Community Lab a sostegno delle famiglie e degli adolescenti del quartiere Borgo Panigale per in vista dei mesi estivi un progetto che è arrivato alla quinta edizione tutte le novità e il bilancio delle precedenti edizioni ci le ha spiegati il presidente del quartiere Borgo Panigale Reno Vincenzo Naldi al microfono di Mario Giulianti andiamo a sentirlo è un'esperienza importante questo è il quinto anno e laboratorio e non solo nel senso che anche un modello di welfare comunitario un modello di estendere le relazioni di mettere in gioco le energie del territorio fa bene le famiglie fa bene le associazioni che con il loro volontariato danno gratuitamente settimane di tempo dedicate alla collettività un bilancio di questi cinque anni? è un bilancio impegnativo perché ha portato ad avere modelli lavorativi diversi da quelli consueti fuori orario soprattutto per gli operatori dell'amministrazione comunale per coordinare il tutto le persone che fanno volontariato e che lavorano ovviamente hanno orari fuori lavoro quindi ci si trova soprattutto la sera e 400 famiglie coinvolte l'anno scorso quest'anno 50 progetti da fondazione Golinelli alla società di basket del quartiere passando per tutte le esperienze che ci sono costruzione di droni piuttosto che bijou in pasta di sale veramente 360 gradi di grandi opportunità bilancio importante ma è un punto di partenza andiamo adesso all'interno del Corriere di Bologna pagina 2 in primo piano c'è il via libera dello stato sociale e del guasto il ministero sblocca la partita dell'estate un contatto tra comune e Mibact libera il concerto di Piazza Maggiore ed il format del Village dopo i paletti messi dalla sopra in tendenza ieri un vertice a Palazzo Caprara sono state studiate le misure sulla sicurezza e sulla tutela dei monumenti oggi summit a 3 con la prefettura questo è per quello che riguarda le polemiche degli ultimi giorni e poi ancora su questo argomento pagina 3 su Piazza Verdi ora i tini si gioca tutto stop vetro e via tutte le scritte dai muri le promesse dell'assessore che poi incalza Lega e 5 Stelle sulla tassa di soggiorno e sugli agenti e il virgolettato riportato dal Corriere di Bologna dell'assessore dice il DASPO una misura importante per colpire i venditori abusivi di alcol ma è necessario anche fare un percorso per arrivare a togliere il vetro dalla piazza un tema che coinvolge l'Ateneo perché gli studenti devono sentirsi nelle regole poi parla delle scritte da qui alla fine del mandato ripuliremo la città dai graffiti si parla anche del parcheggio al Maggiore arriva appunto il vigilante la misura entrerà in vigore dal primo giugno poi saranno installate le sbarre con l'arrivo dell'autunno con la ripresa delle attività a settembre pagina 5 il governo verde spazza via la regione le miglia fuori dalla mappa del potere romano la terza repubblica tiene i margini Bologna per la prima volta dal 2011 non avrà un esecutivo amico e ieri in Cappella Farnese in comune di Bologna Zuppi e Prodi lodano il modello Sant'Egidio ieri l'incontro con il fondatore della comunità abbiamo seguito tutto in diretta su Nettuno TV ve la riproporremo ovviamente nei prossimi giorni e già nella giornata di oggi pagina 7 taxisti contro i paletti dell'autority nuove licenze idea fantasiosa Simiani di Uri Taxi dice piuttosto si pensi ad aumentare le tariffe il 7 l'incontro con la Priolo ancora un virgolettato l'autority enuncia il concetto che il costo di un servizio dipenda solo dai desideri dell'utenza senza considerare i costi che il servizio effettivamente offre a parlare anche Ascom Taxi sulle tariffe ci era stato detto di aspettare il parere adesso dal primo di giugno ci aspettiamo che le tariffe vengano aumentate secondo quanto stabilito e poi ancora parcheggi al posto del verde la nuova protesta del Lazzaretto i residenti dicono servono subito e poi la lettera di Merola nelle scuole sui prati di Caprara Iraq del comitato a favore a sostegno dei prati di Caprara i gruppi dicono indecente usare i bambini per questi fini e poi ancora nel taglio inferiore sempre del Corriere di Bologna pagina 7 la targa della prima officina Maserati è però posta al civico sbagliato lo rivela il libro di Giordano sullo storico marchio la sede originaria è in via dei Pepoli 1 barra D 30 metri più in là dove effettivamente è installata in questo momento pagina 9 pochi contributi volontari a rischio i progetti di classe l'istituto comprensivo 18 il preside scrive alle famiglie solo il 63% lo ha avversato il comitato dei genitori dice serve fare uno sforzo poi ancora il virgolettato riportato dalle parole del preside per il prossimo anno sono fortemente in forza alcuni importanti progetti come per esempio quello dello psicologo in classe rimaniamo a parlare di scuola perché le carracci vanno verso la demolizione in agosto una nuova scuola però è ancora nel limbo le uniche cose certe sono quelle dell'abbattimento e quella del bando per il progetto che verrà fatto a giugno però altre date certe non ce ne sono maestri con diploma magistrale sciopero il 29 di maggio la protesta degli insegnanti questo a chiudere il discorso legato al problema dell'istruzione e della scuola nella città di Bologna pagina 11 la storia chi crede di essere stonato e finisce per cantare nel coro il Nabucco di Verdi nella fotografia il coro degli ex stonati si esibisce al saggio finale al mercato sonato il 30 maggio il 5 giugno in Piazza Verdi i direttori d'orchestra senza spine hanno ideato un corso per persone stonate e questo è quanto riportato in questa storia di approfondimento a pagina 11 sul Corriere di Bologna l'economia pagina 15 imprese la sfida dei dati sensibili l'Italia in ritardo non sarà facile Firochiaro ha guidato il team che doveva armonizzare le norme della privacy il nostro testo dice avrebbe chiarito la compatibilità fra norme europee e norme interne ora questo sarà a carico delle aziende andiamo a parlare anche di sport pagina 16 del Corriere di Bologna stadio VR styling sempre più vicino ha saputo costerà 35 milioni di euro progetto pronto in un mese ok alla città della moda i lavori al Dallara senza trasferete per la squadra nel corso dei prossimi campionati dal punto di vista tecnico si super Pippo in zaghi ma prima ci sono i playoff di serie B il Bologna lo aspetta per firmare l'intesa da ieri ufficiale l'esonero di Roberto Donadoni ci ha dato un grande contributo di credibilità scritto Gioi Saputo ha detto Gioi Saputo nel comunicato ufficiale saputo che parlerà oggi in conferenza stampa insieme a Claudio Fenucci sentiremo ovviamente tutte le sue parole nel corso del pomeriggio il basket Virtus oggi tocca dalla salda il nuovo coach arriva in 15 giorni insediato il nuovo amministratore delegato anche lui verrà presentato oggi ora tocca Trinchieri come allenatore aumento di capitale pronto da 800.000 euro questo è riportato sul Corriere di Bologna la fortitude invece è una febbre da semifinale a Casale Monferrato si va verso il tutto esaurito per gara 1 di semifinale che si giocherà lunedì alle 20.45 e poi ovviamente gara 2 due giorni dopo mercoledì ieri Dovizioso era a Bologna a inaugurare il nuovo scrambler Ducati in via d'Azzeglio bagno di folla per lui presso la Mondadori e scrambler Ducati ha firmato anche copie del suo libro qui ritratto insieme al al pasticcere che gli ha regalato una torta per omaggiarlo della sua presenza questo era all'interno del Corriere di Bologna rimaniamo ancora sul lavoro redazionale di ieri a Netuno TV perché ha compiuto 60 anni la Campa società di mutuo soccorso nella conferenza stampa di presentazione dell'evento che celebrerà appunto la festa che si terrà sabato 26 maggio sono stati forniti anche i dati e i risultati raggiunti in questi 60 anni a parlare di questo il direttore di Campa Massimo Piermattei al microfono di Mario Giuliani siamo veramente soddisfatti di festeggiare appunto questi 60 anni sabato prossimo appunto al Teatro Europa Auditorium la Campa in questi anni è riuscita appunto a incrementare notevolmente il numero dei propri assistiti il numero dei propri scritti rivolgendosi anche non soltanto all'adesione dei volontari libri professionisti lavoratori autonomi che sono i nostri interlocutori privilegiati ma anche facendo coperture collettive rivolte a dipendenti di aziende quindi abbiamo dipendenti di cooperative dipendenti di banche dipendenti di aziende che saranno anche premiati appunto nel corso della manifestazione qual è il segreto per essere così longevi e poi allo stesso tempo anche riuscire a guardare al futuro ma la longevità sicuramente passa attraverso innanzitutto un'organizzazione molto come si dice trasparente e molto rigorosa della nostra attività la Campa fu fondata nel 58 da alcuni dirigenti di una mutua pubblica che era l'Empada perché era una delle migliori mutue pubbliche dall'epoca ad oggi noi abbiamo ancora appunto persone che sono iscritte addirittura da oltre 50 anni addirittura qualcuno anche fin dall'origine quindi noi abbiamo sempre cercato di dare massima importanza alla rigorosità del nostro modo di gestione appunto realizzando sempre un'assoluta trasparenza dei servizi che noi offriamo senza ecco avventurarci in promesse di marketing magari roboanti che magari illudono poi gli assistiti ma poi dopo in realtà non realizzano proprio dall'indagine che è emersa le questionarie di soddisfazione abbiamo visto che oltre il 90% dei nostri assistiti reputa da un valore molto elevato alla soddisfazione dei propri bisogni quindi rispetto alle promesse che noi appunto offriamo il 90% dei nostri assistiti esprime grande soddisfazione quindi o altissima o grande soddisfazione per quello che noi offriamo l'ospite d'onore che eletterà la serata sarà Dodi Battaglia al componente storico del gruppo musicale dei PUC nella veste di solista con la sua band e intervistato ancora da Mario Giulianti devo dire che è un un connubio che ho scoperto io in tempi non sospetti essere già in essere essere già in essere ti piace che sta qui ancora prima della mia conoscenza con gli amici di Campa perché io sono il portavoce di un istituto che si chiama Nuovi Mai che tutela gli interessi raccoglie è una società di collecting che raccoglie appunto dei danari a fronte della partecipazione di artisti interpreti esecutori sia dell'audio che del video per cui già da tempo Campa collaborava con questo istituto ancora prima che io ne venisse a far parte per cui si vede che le cose si attraggono e per cui sono contento di essere in questi termini testimonia bolognese di questa associazione di questa assicurazione non so come si possa chiamare per Campa il segreto della longevità è la trasparenza invece per i Poo di essere stati così uniti per 50 anni ma guarda è sempre una una componente che non c'è una motivazione sola è come niente da dire come quando hai un incidente non c'è mai un motivo solo si lei andava forte però aveva anche le gomme lisse no ma di là degli scherzi è una concatenarsi di cose belle positive non ultimo il fatto di credo che alla fine sia stato un fatto di credibilità cioè noi probabilmente saremmo stati un po' talentati poi ci abbiamo messo del nostro e poi abbiamo avuto la grande fortuna di avere un pubblico straordinario tutte queste cose messe insieme alla fine creano tale tanto sinergia che ti portano ad avere 50 anni di storia ma non succede tutti i giorni una roba così andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali partiamo dal resto del carlino la fotonotizia di prima pagina è licenziato dal robot questa è la notizia la lettera l'azienda gli scrive una macchina al suo posto addio al lavoro dopo 30 anni viene riportato sempre nella fotonotizia di prima pagina il virgolettato il pezzo di lettera di licenziamento a questo lavoratore nel taglio superiore ovviamente si parla di Bologna nuovo dall'Ara c'è l'ok di saputo in zaghi in pol per la panchina ha firmato l'accordo per la cittadella della moda e dunque inizieranno i lavori il taglio laterale e la politica mattarella i partiti diktat inaccettabili ma Salvini non molla scontro in modo particolare su Savona all'economia si rimane sulla politica il neopremier riceve i truffati dalle banche e dice vi risarcisco e poi un sondaggio la base leghista alla finestra solo uno su tre si fida di Conte due vittime l'autista indagato parliamo dello scontro tra un treno e un tir dei giorni scorsi emergenze incidenti passaggi a livello l'approfondimento pagina 10 e pagina 11 all'interno del resto del carlino Corriere della Sera che parla te ovviamente parlando di politica ministri sarà la tensione su Savona il collar spinge i diktat le nomine spettano al Quirinale e al Premier Conte pronto a presentare la lista il presidente del consiglio incaricato ha incontrato anche i risparmiatori saranno risarcite le vittime delle banche e oggi vede Visco tutti i commenti riportati sul Corriere della Sera a partire da Luciano Benetton che dice ora provino a governare poi il titolo di questo caso è appunto i narcisi del curriculum titoli accademici e ambizione e poi ancora aperta ostilità Trump cancella il vertice con Kim stiamo parlando di politica estera la lettera al leader coreano di Donald Trump nella quale brevemente andiamo a vedere dice è triste ma in base alla enorme rabbia e all'aperta ostilità da voi mostrata nelle recenti dichiarazioni penso che sia inappropriato a questo punto tenere il nostro incontro così a lungo pianificato dovevano incontrarsi Donald Trump e Kim Jong-un il 12 di giugno e dunque questo incontro non si farà fotonotizia di prima pagina nel Corriere della Sera nella quale si parla di Weinstein il giorno della resa oggi sarà arrestato a New York il produttore di Hollywood davanti agli investigatori per lo scandalo denominato Me Too del quale tanto si è parlato nei mesi scorsi prima pagina della stampa andiamo a vedere Mattarella dice basta diktat sul governo Salvini insiste per Savona la guida del tesoro il colle aspetta una mossa del presidente incaricato il primo annuncio di Conte da avvocato del popolo dice risarciremo le vittime delle banche lo spread intanto è a 195 per quanto riguarda la fotonotizia di prima pagina ancora dedicata allo scontro tra il treno e il tir nei giorni scorsi Torino dietro l'incidente i fondi per la sicurezza mai usati una linea ferroviaria maledetta da Torino a Chivasso Ivrea lungo la quale si è verificato lo scontro tra un treno e un tir che ha provocato due morti e una ventina di feriti sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo che dovrà fare luce sui 40 milioni stanzionati e dirottati ad Aosta approfondimento a pagina 12 e 13 della stampa politica estera anche sulla stampa ancora Trump a sorpresa dice chi mi offende gli USA non andrò al vertice e poi le storie il giallo dei 3,3 milioni di Berlusconi a Dell'Utri Apple Volkswagen lascia la navetta a guida autonoma la sfida approfondita a pagina 17 e poi ancora ritrovare la voce con il canto in coro sconfigge la malattia e la piramide di Missica dove l'arte si trasforma nel tempio delle api andiamo a vedere anche avvenire prima pagina con la fotonotizia dedicata ancora alla politica estera salta il vertice fra Trump e Kim demolito il poligono atomico e poi avventure no grazie è il titolo di avvenire per quello che riguarda la politica italiana il Quirinale dice noi diktat decidiamo con il premier Salvini insiste con umiltà per avere Savona Conte alle vittime delle banche che dice vi risarciremo e Bassetti noi rimaniamo vigili in taglio superiore le brevi di avvenire rapimenti torture uccisioni per i migranti in Libia un nuovo Far West e poi in Irlanda oggi il referendum con il paese diviso che dovrà scegliere appunto sull'aborto e per quanto riguarda il commercio gli USA preparano i dazzi delle auto rischiano UE e Asia questa è la prima pagina di avvenire prima di andare a leggere il QS e dunque tutto quello che riguarda lo sport introduciamo in un certo senso lo sport perché ieri c'è stata la presentazione dell'evento i Bradipi a canestro un evento che riguarderà i Bradipi la squadra di basket in carrozzina che ha organizzato un importante incontro per domenica 27 maggio i Bradipi vogliono la gente in Piazza Renzo saranno installati dei canestri che porteranno appunto la gente a poter giocare a cimentarsi nel basket in carrozzina evento assolutamente aperto è un evento per la città l'ho definito Germano Pepoli il direttore sportivo dei Bradipi che ci racconta di preciso quello che succederà torniamo in piazza dopo tre anni in Piazza Renzo domenica dalle 15 siamo qui facciamo un happening tutto il pomeriggio oltretutto pare che le previsioni ci diano bel tempo anzi quasi caldo torrido quindi bene ovviamente aperto a tutti ovviamente aperto a tutti ci saranno i ragazzi faremo qualche dimostrazione chiunque vuole passare provare a sedersi capire cosa vuol dire giocare a basket o comunque provare a tirare noi siamo qui per farlo quindi provare a vedere chi è veramente il disabile perché poi dopo ne parliamo dopo la volta che avete provato dopo qualche reazione la vorrei sentire non è un evento aperto di disabili è un evento per la città partiamo da lì è un evento per la città dove portiamo i ragazzi a far vedere quello che sono in grado di fare e lo fanno a livelli di eccellenza poi chiunque passerà vorrà provare vedere mettersi seduti provare a fare un tiro qualsiasi cosa che vuole fare noi siamo pronti ma non è una cosa rivolta ai disabili è una cosa rivolta alla città per portare a conoscenza ancora una volta la città che esiste un'eccellenza sportiva di disabili che vince cose che in una città come Bologna oramai non succede più da tempo a parte quelli che sono i lavori in corso quindi è ovviamente una festa ecco l'idea è una festa quindi siamo noi c'è Franz Campi che ci viene a dare una mano e farà da speaker c'è un po' di gente che passerà chiaramente la fortuna ci ha messo lo zampino perché la fortitude ci aveva promesso che venivano ma avendo vinto Casale vanno via e quindi non ce la faranno passare ma il loro sostegno c'è in altre maniere quindi è aperto a tutti vi aspettiamo andiamo all'interno del QS la parte sportiva dopo aver sentito le parole di Germano Pepoli rilancio Bologna il titolo della prima pagina del QS con Filippo Inzaghi in fotonotizia è favorito lui per l'eredità di Donadoni in corsa anche De Zerbi e Nicola saputo dice chiuso un ciclo per quello che riguarda l'allenatore l'Italia l'azzurro di Mancini parte da Mario Balotelli e poi la Formula 1 Monte Carlo il rugito della Red Bull Vettel è più veloce di Lewis Hamilton poi ancora a Yates si scopre umano stiamo parlando di ciclismo e del Giro d'Italia a Domoulin però di mezzo a ritardo oggi si sale ancora sorpresa ieri a Prato Nevoso la Maglia Rosa ha perso 28 secondi di vantaggio nella prima delle tre tappe di montagna che di fatto decideranno il giro tra ieri oggi e nei prossimi giorni il Borgo Panigale verso il Centenario con 300 tesserati questo all'interno del Carlino della parte sportiva e poi ancora Virtus dalla salda è il nuovo amministratore delegato caccia a Trinchieri come allenatore e a Diego Flaccadori come primo rinforzo di mercato pagina 2 saputo guarda al futuro dice si è chiuso un ciclo al via un altro programma triennale potrebbero non bastare tre o quattro ritocchi dipende anche dalla partita dei rinnovi e poi Donadoni una grigliata indigesta sapeva già tutto prima della cena con la squadra se vorrà accasarsi da qualche altra parte dovrà rescindere con il Bologna Bologna un lavoro per Super Pippo toto allenatore Inzaghi è il favorito ad accogliere l'eredità di Donadoni che è stato esonerato ieri nelle fotografie sono riportati Nicola con De Zerbi ma anche Leonardo Semplici il tecnico della SPAL e Gio Tacopina il presidente del Venezia che detiene il cartellino di fatto di Pippo Inzaghi che allenerà il Venezia fino al termine dei playoff in Serie B finché durerà l'avventura del Venezia in Serie B si parla ovviamente anche di mercato perché Destro lo conosce ora può restare Mattia andò al Milan proprio per volere di Inzaghi che chiede fiducia anche ad Andrea Poli la nuova Italia lo spirito dell'82 e balo ecco l'Italia di Mancini il primo giorno lavoro per il CT mi ispiro a Berzot quella squadra partì piena di problemi e fece innamorare il paese Mario credo sia più maturo queste le parole di Roberto Mancini si intravede anche Simone Verdi in una delle fotografie riportate dal quotidiano sportivo Borgo Panigale per indisi lungo un anno nel 2019 ricorre il centenario del club bianco-rosso forte di 300 tesserati il direttore sportivo Renzi dice abbiamo fatto passi da gigante vogliamo modernizzare e rinnovare le nostre strutture e poi il Milan il CDA della verità lì alle strette dopo il no del UEFA al fair play oggi il presidente deve dare delle risposte Elliot pronto a entrare in gioco il basket Virtus Europa e playoff comincia l'era dalla salda ingaggerà Martelli come DS e per quanto riguarda il coach prosegue l'interesse per Trinchieri e piace anche il trentino Diego Flaccadori Fortitudo cambia la prospettiva rispetto a quanto fatto fino adesso ai playoff adesso serve un blitz esterno per passare il turno da lunedì la serie con Casale si comincia in Piemonte Rosselli e company per la prima volta obbligati a vincere in trasferta Ozzano è promossa in serie B riportato anche questa importante notizia pagina 8 e poi come abbiamo visto anche prima canestre in carrozzina aperti a tutti ci ha raccontato Germano Pepoli di cosa si tratterà il giro cuore di un mulen adesso Bracca Yates l'olandese di mezzo allo svantaggio scattando con Pozzo Vivo e Chris Froome in crisi ieri la maglia rosa chiudiamo con quello che riguarda il motociclismo ieri comici torte e tanti fan bagno di folla per Andrea Dovizioso all'evento di presentazione di Scrambler Ducati dove ha anche firmato le copie del suo libro che si titola appunto Asfalto facciamo il nostro break al rientro continuiamo la rassegna stampa con le giorni quotidiane di Bologna i quotidiani sportivi tutto quello che riguarda anche i quotidiani nazionali ovviamente con i servizi della redazione di ieri di Nettuno TV a tra poco